L'incontro dove la gente viaggia e va a telefonare con un barba che sa di pioggia e le ventiquattro ore perduti nel corriere della sera e il barba viene di una cameriera ma perché ogni giorno viene sera oltre un uomo è da solo perché ha in testa stranità perché ha paura del sesso per la sbaglia di successo per scrivere il romanzo che ha di dentro perché la vita l'ha già messo al muro o perché in un mondo falso è un uomo vero Dio delle città e dell'immensità se è detto che ci sei e hai viaggiato più di noi vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei vediamo se si può farci amare come siamo senza di inventarsi più con le trozze e dolce e un figlio perché questa vita mi stende e chi è steso da armi a muore ci sono uomini soli per la sete d'avventura perché hanno studiato da prete o per vent'anni di galera per madri che non li hanno mai spezzati per donne che li hanno rivoltati e persi o solo perché sono dei diversi Dio delle città e dell'immensità se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' coloro cambiando un po' per noi ma Dio delle città e dell'immensità magari tu ci sei e i problemi non ne hai ma qua giù non siamo in cielo e se un uomo per mentire è soltanto un uomo solo ma per l'immensità ma non non ne hai ma che ci sei e i problemi che ci sei e il Grazie a tutti.